un poema latino tardo antico che parla di geografia le premesse non sembrerebbero incoraggianti eppure anche in questo caso è possibile parlare di un piccolo mistero tra libri l'autore in questione è postumio rufo festo a vieno è di bolsena proviene da una famiglia molto agiata di bolsena e scrive siamo nel quarto secolo dopo cristo alcuni poemetti di ambito astronomico e geografico quello che ci interessa si chiama ora maritima le coste ci è arrivato in completo sono solo 713 versi tra l'altro il manoscritto l'unico manoscritto che lo tramandava è andato perduto quindi ci resta solo un'edizione a stampa e in questi versi a vieno descrive le coste con appunto i centri abitati le caratteristiche morfologiche geografiche le coste della spagna e della francia mediterranea fino a marsiglia perché risulta particolarmente interessante bene a vieno per scrivere la sua opera ha accesso ad autori precedenti greci alcuni dei quali molto antichi del sesto quinto secolo avanti cristo che per noi sono andati perduti e proprio attingendo a questi autori che ci sfuggono e chi avviene in grado di parlare di una città mitica misteriosa la città di tartesso una città ubicata nel sud della spagna vicino si dice sembra l'attuale cadice e che in epoca molto antica era sede di un regno molto importante molto ricco al centro di traffici di metalli e di merci varie che un regno che spicca in maniera quasi favolosa per la sua potenza e per la sua avanzatissima civiltà un regno che scompare a un certo punto scompare e non lascia nessuna traccia c'è stato chi ha cercato tartesso per tutta la vita come ha fatto ai primi del novecento uno studioso tedesco che si chiamava adolf schulten ma nessuno è mai riuscito a trovare questa città favolosa che per tanti versi può essere paragonata ad un'altra città favolosa atlantide descritta in un mito platonico ebbene la ricerca di tartesso non è ancora finita c'è chi cerca di individuarla nel mediterraneo e chissà che prima o poi qualcuno non trovi qualcosa ma intanto dobbiamo ringraziare a vieno e il suo poimento geografico per questo piccolo mistero che se non altro accende la nostra fantasia